A Bargallada A Bargallada Tiga kamada gina rutiga nengkawa A Bargallada Kamundo nyinyan taganda Allah Jina aduhadama taganda Allah Mulukulu dayanu Ati gandandangaya hapale Oni koti gana Katumu lambiya Katumu arashulu Dunak Arulagara kurunyumangke Mahabudubuna Abdallah A Bargallada A Bargallada Ouri koti gana ma Arim bhabha Sabunyuma A Bargallada Asi hai na ke gana konaan da Jare da maun kondyani Nanxare jahunu tam maara Shoma Ida da maun konaan da 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 Tamarotam rangare Shoma Ida da maun konaan da Ida da maun konaan da Shikne muragya shoma Aro jabi muragya shoma Marabata urri shoma Aro hammeri urri shoma Nyagale mbibdaan nishara Mahamur daashiri tora Mahamuru nyagale Dukhure jaga Mahamur daashiri kishmere Aro kanaksetang kishmere Shima lasetang kishmere Aro gasumasetang kishmere Nyagale mbibdaan nishara Mahamur daashiri kishmere Mahamakashir binta Kandindikita Hatma kasa lemme Eh Nenun chitanga rangkambi nyagama banta Hatagayido hajwasha Awanan durumuji Ani me giare l'Italia Nyumaturere me Sonabindare me Mamorunye gale Ndonda manna belè belè Bakafza nisandu warie Aureni meni Sarambi jaka shikini sirey Sarambi jaka nge wutuna kini sirey Akanu Abudu beben kishmare Mamorunye gale Abarika Ngammullah Alay mamudu kishmare Mamorunye gale Abarika Ngammullah Lami meni kishmare Mamorunye gale Abarika Eo Khe duna Shibina bebe kishmare Mamorunye gale Mammullahunye gale Mammullahunye gale Mammullahunye gale Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il ne è che ci ha detto... Il si riconque... Il si marzo... È il momento iniziale... Non s'ileta di essere a dormire... Non s'ileta di essere a dormire... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti